oggi vi mostro come con una monetina riusciamo a montare il piatto del ronin sc per il follo focus ciao a tutti ragazzi ecco qui come deve essere il piatto del follo focus una volta montato ma facciamo un passo indietro e vediamo come lo troviamo nella scatola e come lo dobbiamo montare all'interno della scatola troviamo un sacco di attrezzi molto utili tra cui queste due brugole una delle quali è indispensabile da avere sempre dentro la scatola perché altrimenti non riusciamo a montare il follo focus a meno che non decidiamo di portarcelo in giro già montato magari in un'altra borsetta così che forse ha anche più senso perché ci si mette un po di tempo e se si affretta va a finire che non lo si usa non lo so vedete voi intanto lo smonto che così lo rimontiamo assieme ok smontato rimontiamolo intanto che cosa troviamo all'interno della scatola troviamo la piastra di sgancio rapido troviamo il motore del follo focus con il suo attacco per andare a fissarlo a sua volta su questo caso che non so come chiamare ma chiameremo supporto del braccio del motore poi troviamo il computerino di bordo che trasmette informazioni da una parte alla telecamera dall'altra a ronin e dall'altra ancora al motore del ronin stesso troviamo un ulteriore piatto di allontanamento dalla piastra perché altrimenti andremo a toccare con la lente molto probabilmente sulla piastra e poi troviamo un altro cavo e qualche vita qua e la lo so è poco rassicurante all'inizio ma ce la faremo ce la faremo anche perché all'interno oltre ad altre centinaia di viti e brugole all'interno della scatola c'è questo ma non solo questo manuale come potete ben vedere però questo manuale è quello che ci riguarda per il ronin sc focus monitor fortunatamente c'è anche in italiano ma vi dirò sinceramente la cosa che mi interessava di più era capire come andare a montare con le figure quindi la prima cosa che sono andato a cercare di capire era come e dove dovevo mettere questo benedetto cavo per evitare di far confusione quello che vi consiglio io è di posizionarli in questa maniera qua scritta dji dritta così ok qui lateralmente abbiamo una presa usb c e prendiamo già da subito il nostro cavo aggiuntivo e andiamo a fissarli in questa maniera ok e questo ce lo siamo già levato dalle scatole lo toccheremo più avanti prendiamo i nostri adattatori 1 e 2 e andiamo a fissarli in questa maniera qua ok questo poi potremmo andare a stringerlo quando vogliamo con una brugola che appunto ci è andato in dotazione e per ora andiamo solo a stringere un pochino poi a seconda di quanto lungo sarà il vostro obiettivo potremo andare a spostarci più avanti o più indietro per andare a fissarlo comunque noi lo fissiamo un attimino giusto per non perdercelo per strada qui dietro il consiglio che vi do io è di andare già ad inserire le due viti in dotazione ne tiro fuori una per farvi vedere qual è le tengo sempre all'interno del braccetto perché sono delle viti filettate fino a un certo punto di modo che riescono ad incastrarsi vedete non non escono quindi il consiglio che vi do io è di inserirle già da subito in questa maniera e poi a un certo punto andranno a finire dentro e non escono più e le mettiamo così prendiamo il piatto distanziatore lo teniamo a testa in giù avviciniamo in questa maniera ve lo faccio vedere così guardate e lo andiamo a fissare con le due viti che abbiamo appena messo all'interno mi raccomando questa posizione qua non al contrario perché sennò poi fate un casino incredibile quando andate a montare il motore queste le possiamo fissare tranquillamente meglio prendiamo ora il nostro computerino di bordo e dove andiamo a mettere questo ci ho messo un po a capirlo è però no ma se si può esservi utile magari questo tutorial visto che iniziamo ad avere un sacco di cavi dobbiamo posizionarlo in questa maniera qua giusto per darvi un'idea lo metto sempre con la scritta dj dritta di modo che vi possa essere d'aiuto la scritta dj dritta il piatto storto come l'avevamo tenuto prima e vado in questa posizione qua tra l'altro c'è questo piccolo aiuto che può esservi l'unico aiuto che praticamente si incastra dentro al buco più grande della piastrina quindi così però ci ho messo un po capire come cavolo facevo a collegarlo adesso perché non c'è una vita non c'è niente ho trovato dentro al sacchetto questa vita un po diversa un po più lunga che può andare dentro a questo buco qua ok quindi spingiamo la vita fino in fondo praticamente esce di qua vedete dei geni questi cinesi e poi andiamo a avvitare la nostra vitina proseguiamo con l'avvitamento ok e finalmente abbiamo tutto il piatto montato manca solo il motore eccolo qui andiamo a montarlo occhio a non fare errori da che parte andare a montarlo perché ovviamente in questo caso il piatto deve rimanere dietro e il motore deve rimanere davanti quindi in questa maniera qua vado a fissare al volo un attimo allargo il braccetto in modo che porto avanti il mio motore e questa è la posizione definitiva di tutto il blocco motore drone in sc ora prendo la telecamera e prendo il cavo dentato lo metto così cercando di rimanere più stretto possibile in modo che la rotazione del cavo permetta la rotazione della ruota del focus o dello zoom ok abbiamo creato tutto quanto andiamo a collegare la nostra camera con il nostro piatto con la vita che troviamo qui sotto teniamo il più verticale possibile la nostra placca la fissiamo con i nostri 5 centesimi e adesso dobbiamo collegare i vari cavi allora c'è il cavo a l quello che vi ho fatto attaccare prima che il cavo della telecamera quindi apriamo lo sportello della telecamera e andiamo a inserirlo nel micro usb poi abbiamo il secondo cavo che è questo qui che è quello del motore questo qui quindi sulla scritta dj ai sotto alla scritta dj ai che è quello che va sul motore e poi l'ultimo cavo questo qui che viene dietro l'altro cavo l andrà invece attaccato al ronin sc prima di andare a collegare il nostro apparecchio al piatto principale voglio però fissare correttamente il motore perché vedete che il motore e la ruota non sono ancora avvicinati e collegati quindi vado a trovare esattamente il posizionamento del motore con la ruota stringo e controllo che muovendo il motore si muova la ruota vado a collegarci anche il piatto a seconda di quanto pesa la telecamera dovrete valutare dove andare a fissare il piatto con un 18 105 pesucchi alla telecamera quindi vado a fissare la mia vita nella parte frontale la parte più avanti modo che mi dia più margine di bilanciamento ricordatevi sempre che il piatto ha un suo verso ma c'è scritto direzione della lente dovremo metterla nella direzione della lente stringiamo il piatto ovviamente lo spostamento del piatto dipende dal peso della telecamera poi una volta che capite qual è la posizione corretta potete tranquillamente segnarvela prendiamo il ronin andiamo ad inserire il piatto adesso non mi metto a rifare tutto il bilanciamento perché ve l'avevo mostrato già nel video precedente comunque lo trovate qui sopra in alto da qualche parte la cosa che mi interessava era farvi vedere dove andava a finire l'ultimo dei cavetti che è questo e va a collegarsi qui in questo buco qua una volta acceso il ronin il nostro follow focus ci darà un led che in questo caso è giallo io ho un 18 105 che gira all'infinito quindi non ho bisogno di un inizio e di una fine però vedete che posso già ruotando questo far spostare anche il motore superiore ed è già praticamente bindato di base di suo non c'è nessun problema se avessimo un ottica che inizia e finisce quindi che termina che arriva a fine corso o meno si può auto calibrare il motore del follow focus premendo due volte sul pulsante che vedete qui tac tac e lui fa il fine corso da una parte e il fine corso dall'altro e la luce diventa verde basta spero vi sia piaciuto anche questo tutorial se vi è piaciuto cliccate mi piace condividetelo con gli amici taggate chi volete e ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e accendere la campanellina vi ricordo che noi ci vediamo il martedì sera alle sei e mezzo con la diretta che ormai è diventata un appuntamento classico settimanale il mercoledì con tutorial recensioni e test di vari prodotti e il giovedì sera ci vediamo con le pillole di da vinci resolve a me non resta che salutarvi e dirvi che ci vediamo con il prossimo video ciao 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 ciao